Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. Ian Sommer si presenta sulla piattaforma Dazon dopo la partita di stasera contro la Juventus, offrendo un'analisi incisiva della partita. Il portiere elvetico sottolinea il carattere tattico del secondo tempo, dove entrambe le squadre hanno evitato di correre troppi rischi, rendendo il confronto estremamente tattico. Sommer riconosce la sfida particolarmente ardua contro la Juventus, nota per la sua solida difesa, ma enfatizza l'importanza di aver ottenuto il pareggio dopo il gol subito. Interrogato sul pacchetto difensivo nerazzurro, Sommer elogia i suoi difensori, considerandoli una risorsa fondamentale. La solidità difensiva è chiave per la squadra, che mira a concedere il minor numero possibile di occasioni in campionato. Sommer esprime ammirazione per la compattezza della squadra e l'approccio di gioco dalla retroguardia, sottolineando quanto sia sorprendente e determinante per il loro stile di gioco. Riguardo al suo gioco con i piedi, Sommer condivide che non ha subito molta pressione da parte degli avversari, consentendogli di valutare tutte le opzioni disponibili. Sottolinea l'importanza di trovare soluzioni tra le linee e mettere in difficoltà gli avversari nonostante la pressione del pubblico in uno stadio. La capacità di giocare a due tocchi e trovare i gol evidenzia l'importanza di una gestione efficace del gioco con i piedi per creare opportunità vincenti.